Da noi, Marina Peronez! Dentro piano nel letto non ti voglio sbagliare Ho voglia di te ma non mi vieni a cercare Non riesco a dormire, vado fuori a fumare Mi stringe la gola questo mio dispiacere Eppure è successo e non lo ammetterai mai Un muro si è alzato proprio al centro tra noi Io penso a momenti neanche troppo lontani Dove baci e carezze non bastavano mai E allora dimmi, dimmi Cosa hai cambiato tra di noi Ma tu non senti, spegni Ogni contente non lo sai E allora cerca, guarda Se sono viva dentro te Oppure dormi, dormi Adesso che hai perduto a me Mi brucia nel petto uno strano dolore La voglia di te Si fa ancora sentire E' triste la notte E so pagare uno solo Se ti manca il coraggio Di riprendere il volo Lo chiedo a una stella Che cadeva per caso Sento una lacrima che bagna il mio viso Anche l'ultima luce Se ci è spenta E allora io ritorno a dormire Sola come non mai E allora dimmi, dimmi Cosa hai cambiato tra di noi Ma tu non senti, spegni Ogni contesto non lo sai E allora cerca, guarda Se sono viva dentro te Oppure dormi, dormi Adesso che hai perduto a me E allora dimmi, dimmi Oppure dormi, dormi E allora cerca, guarda Se sono viva dentro te Oppure dormi, dormi Adesso che hai perduto a me E ora dimmi, dimmi Cosa c'è tra di noi Ma hai visto anche che coro Che balletto che avevi alle tue spalle Veramente ragazzi, grazie Che tito, che sostegno Grazie Grazie Hai finito di fare il camera No, volevo svelare l'arcano Cioè? Arcano? Quale arcano? Arcano, non è arcane Volevo solo spiegare questa situazione Cioè? Lo sapete che siamo sotto Ragazzi, fra un po' parte Ricominciamo No La campagna elettorale Fra un po' parte Redditometro Eh Allora Ci sono in giro voci strane Che se non cominci a farti video amatoriali a casa tua Anche per un videoclip Sarai Dovrai dimostrare Dove hai preso esattamente 400 euro per un videoclip Ragazzi, ma non lo sapete voi? No Non vi è arrivata sta notizia? No Io mi vado a documentare subito Io anche Qualcuno sa Io anche vado Con Redditometro non si scappa più da niente Videoclip Solo Pippo Landro li può fare Gli altri Aspetta Ma è il mio, tra l'altro Guarda un po' il mio video con che è uscito Eh, voglio dire Voglio dire È uscito benissimo Grazie Tenuta a battesimo dal 4-1 Che onore Perfetto Marina Peroni A più tardi Grazie